Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Con questo e altri brevi video che caricherò successivamente riprendo la programmazione regolare qua su youtube dopo la pausa di agosto. In questo primo video voglio mostrarvi i prodotti di un'offerta in corso da limoni fino all'8 settembre che io ho acquistato e che vi consiglio perché sono prodotti molto validi ed è un'offerta molto vantaggiosa. Si tratta dell'offerta della Rimmel London per cui si possono acquistare un rossetto firmato da Kate Moss e uno smalto della linea Salon Pro a 5,90€. L'offerta come ho detto è vantaggiosissima perché ciascun prodotto costa rispettivamente 7,90€ e 4,90€ prezzo pieno per cui voi andate a pagare questi prodotti scontati oltre il 50%. Io ho acquistato queste due coppie che vi mostro in due sessioni di acquisto differenti e vado subito a presentarvele più nel dettaglio. La prima coppia che ho acquistato è quella costituita dal rossetto numero 20 dallo smalto sempre di Kate Moss 237 Soul Session. Casualmente lo smalto è anch'esso firmato da Kate Moss ma voi potete scegliere un qualsiasi colore anche non firmato da Kate Moss che vi piaccia. A me piaceva questo che è un nude rosato molto bello e raffinato e quindi ho scelto questo. Il rossetto invece è questo bel fucsia molto acceso che tra l'altro è quello che sto indossando e come vedete è un fucsia abbastanza lucido ma non troppo, non matt ma abbastanza opaco, insomma un colore molto bello che vi suoccio anche sul braccio per rendervi conto di quanto sia corposo come colore molto ricco. Io possego anche ad esempio Girl About Town che è uno dei fucsia più famosi di MAC ma vi garantisco che questo non ha nulla da invidiare. Dura anche bene, io lo porto per parecchie ore, mi dura bene anche tutto il giorno, lascia le labbra morbide e un rossetto anche molto confortibile quindi mi sento di consigliarvelo. Per quanto riguarda lo smalto se riesco magari poi posto qualche foto su Facebook fatemi sapere se vi interessa. L'altra coppia che ho acquistato è invece composta dal rossetto 104 e dallo smalto sempre firmato da Kate Moss 347 Disco Fever che è un bel fucsia scuro e cangiante che è lo smalto che sto indossando. Vedete molto bello anche qui. Per quanto riguarda il rossetto è un colore un po' particolare, come vedete un mauve, è come dire un nude scuro che vado a swatcharvi dall'altra parte vedete? È un colore che anch'esso è molto confortevole sulle labbra, si abbina bene a tantissimi trucchi in questo caso come vedete la confezione è questo colore rosso mattone perché è la linea matte praticamente quelli rossi sono la linea matte, quelli neri come il precedente è la linea normale ma non sono lucidissimi. Per cui ragazze questo è tutto per questo primo breve video, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere anche voi se avete già approfittato dell'offerta che vi ho illustrato o se ne volete approfittare ancora. Io vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!